La superstizione è contraria alla religione. Don Paolo Cherubini è perentorio. Simboli come ferri di cavallo, cornetti e fiocchi rossi vanno quindi tolti. Io non sono superstiziosi di niente, credo solo a quello lassù e il resto niente. Con la lettera consegnata in questi giorni ai fedeli, il parroco della parrocchia di Piana e di Santa Maria Maddalena Castiglione del Lago prova a porre precetti e condizioni in vista della benedizione pasquale a domicilio. Questo è il discorso del ferro di cavallo, il fiocco, io non c'ho né uno né l'altro, queste cose non ci credo. Ma chi ce l'ha perché deve essere? Quest'anno non li faccio nemmeno entrare, non li faccio nemmeno entrare e chiederò a qualche altro prete delle vicinanze di venire a far benedire la cosa. A provocare il dissenso maggiore fra i parrocchiani anche l'invito a tenere i cani legati durante la benedizione. Il cane anche, ce l'ho e lo tengo in casa. Se vuole venire viene, se no, pace. Nella lettera si chiede poi esplicitamente un'offerta in busta chiusa da consegnare dopo la preghiera. Abbiamo provato noi ed altre testate web a chiedere qualcosa a Don Paolo che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Fra tante discussioni comunque non tutti nel piccolo paese di Piana si dicono contrari alla presa di posizione del parroco. La gente di Castiglione del Lago della Piana le polemiche non le fa solo su questo. Quindi qualunque cosa fa questo prete fanno polemiche. Cioè non lo sto difendendo, però non mi sembra una cosa da prima pagina. Tutto qui. E non è la prima volta che i castiglionesi si vedono recapitare lettere e messaggi di questo tipo. Già lo scorso autunno sia Don Paolo che è un suo collega della zona misero in guardia i fedeli dagli eccessi di Halloween. Quella sì, festa pagana per eccellenza.